E anche la settimana di Natale è arrivata in fondo. Oggi è il 28 dicembre 2018, bentornati su CiperTV. Avremo tre position squat clean e dovremo costruire quindi un heavy complex e poi tre round four time con 15 chest to bar pull up, 12 lateral barber burpees e 9 squat clean. Pesi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco e anche questo Natale ce lo siamo levato di torno a domani, anzi a lunedì con un'altra puntata di CiperTV.